Buongiorno a tutti e ben ritrovati sulla Nuova TV, siamo ormai giunti quasi alla fine del mese di aprile, un mese piuttosto siccitoso se vogliamo, poche precipitazioni, su potenza sono caduti intorno a 35 millimetri contro una media di 80, quindi siamo meno della metà, ha fatto freddo la prima parte del mese, poi però le temperature si sono portate decisamente a risolvere delle medie, le piogge significative sono ormai lontane, quindi un anticipo di estate se vogliamo, perché nei giorni scorsi abbiamo superato su molte località i 23-24 gradi, ora da ieri da nord hanno portato un po' le temperature in calo, quindi si sono tornati più o meno su valori più consoni del mese di aprile, ma comunque siamo superiori alla media. Ora c'è una nuvolosità che da stamattina sta interessando il sud Italia, nuvolosità molto sterile, si tratta di nubi alte stratificate, c'è qualche cumulo affogato in questa nuvolosità, però fenomeni non se ne verificano almeno sulla nostra regione. Vediamo il quadro del satellite a livello europeo, notiamo le perturbazioni che scorrono sulle attitudini piuttosto settentrionali, molto più interessate alle piogge e alle precipitazioni sono le zone ad est dell'Europa, mentre si nota sulla parte meridionale dello schermo quella nuvolosità che viene dall'Africa, che la possiamo rivedere, la possiamo notare meglio con la zoom sull'Italia che ci mostra appunto questa nuvolosità, che vedete avanza proprio dalla Tunisia e dall'Algeria e man mano che va verso nord incontra l'alta pressione, quindi va sfilacciandosi questa nuvolosità, la ritroviamo soprattutto tra Sicilia e Calabria dove qualche pioggia c'è stata, da noi solo come dicevo nuvole alte, quindi con questa premessa vista anche dal satellite andiamo a vedere le cartine preparate da Meteo 7 per vedere cosa ci aspetta per la seconda parte della giornata di oggi, notiamo una previsione con una, ho demarcato quella linea gialla, prova a indicare le zone più interessate dalla nuvolosità che scorre all'attitudine meridionali, quindi saranno le zone centro-medidionale della Basilicata ancora nel pomeriggio e nella sera ad avere una maggiore nuvolosità, per il resto vedete la parte settentrionale, sì nubi alte, sfilacciate, ma non avremo precipitazioni e temperature, si mantengono su valori simili a quelle di maggio, quindi 17 a potenza la massima e 19 a matera, sono sicuramente valori come dicevo di 3-4 gradi al di sopra delle medie di aprile. Andiamo a vedere la giornata di domani, una giornata ancora all'insegna del bel tempo, questa nuvolosità dovrebbe andare via nel corso della notte, quindi mattinata ancora qualche strascico, ma per quanto riguarda domani vedete una situazione che dovete splendere di nuovo il sole su tutta la nostra regione, con temperature che sono ancora in aumento vista la minore nuvolosità, 19 gradi la massima prevista su potenza, 21 su matera, minime che invece si attestano su valori più o meno normali per il periodo, quindi avremo semplicemente valori intorno ai 6 gradi di potenza, avete visto 8-9 gradi a matera. I venti sono ancora da nord, deboli, una situazione che vede una attenuazione della ventilazione proprio perché andrà via questa coda di una perturbazione africana che poi alla fine avete visto non darà grossi effetti. Ci spingiamo a questo punto a vedere la domenica, la domenica che vede un piccolo cambiamento, una maggiore instabilità pomeridiana, le temperature più calde del periodo fanno sì che si sviluppino delle nuvi temporalesche che poi di temporali non ce ne sono, però si chiamano proprio nuvi temporalesche, nuvi di evoluzione di urna che si formano proprio per il calore. Vediamo la previsione per domenica, si nota una maggiore nuvolosità come dicevo, quindi in mattinata cielo sereno, poco nuvoloso al più, poi nel corso della giornata avremo durante le ore più calde del pomeriggio uno sviluppo di nubi verticali e non esclusa proprio qualche brevissima precipitazione nelle zone interne del Potentino, parliamo di fenomeni isolati, a partire proprio in tarda pomeriggio tra le 17 e le 18 potrebbe svilupparsi qualche locale rovescio, ma nulla di più. Sul resto della regione prevale ancora una nuvolosità sterile, vedete ancora le temperature si mantengono su valori molto alti per il periodo, 19 gradi a potenza e 21 gradi a materia, quindi valori sicuramente che sono da fine maggio, non certo da inizio maggio, come invece le previsioni lasciano intendere. Per quanto riguarda il lunedì questa instabilità si farà un pochino più presente su tutta la nostra regione e quindi ricompare il simbolo della pioggia, non parliamo di precipitazioni consistenti, parliamo di piogge sparse, certo in un contesto di essiccità fanno sempre bene queste piogge, anche perché non ci dovrebbero essere temporali, sono dei rovesci pomeridiani soprattutto, che dovrebbero riguardare ancora una volta la parte centrale della regione, questa volta però non è più localizzata alle zone interne del Potentino, potrebbero estendersi anche alle colline, alle aree del Materano. Le temperature per quanto riguarda lunedì sono in lieve calo proprio per via delle precipitazioni, quindi una massima di 16 a potenza, 19 a materia, minima intorno ai 7 gradi di potenza, 10 gradi di materia, quindi sono valori più o meno che sono più tipici di maggio, quindi torniamo in linea e questo lo possiamo vedere anche con l'ultima cartina a disposizione, quella degli spaghetti, il grafico degli spaghetti, vedete le temperature che sono praticamente in linea con il periodo nei prossimi giorni, non abbiamo né valori di temperature eccezionalmente calde, neanche il ritorno del freddo come qualcuno voleva far pensare, quindi non avremo grossi scossoni nel medio e lungo termine, forse se vogliamo andare a vedere proprio gli spaghetti nella parte finale del grafico, quindi parliamo di 12-13 giorni di distanza, ci potrebbe essere un peggioramento più consistente dal punto di vista sia delle temperature in calo che delle precipitazioni. Per il momento vediamo la parte bassa del grafico, un po' di pioggia soprattutto tra lunedì e forse martedì, poi mercoledì e giovedì qualche modello porta un po' di pioggia, ma dovrebbero rientrare le temperature su valori piuttosto miti, quindi dopo un po' di diminuzioni tra domenica e lunedì, da martedì ci aspetta di nuovo un aumento delle temperature, quindi questo aumento delle temperature dovrebbe riguardare la nostra regione martedì, mercoledì e giovedì, sabato invece è previsto una nuova perturbazione proveniente dall'Africa che questa volta potrebbe scavare una depressione, quindi portare un po' di precipitazioni più consistenti. Una settimana sicuramente più movimentata rispetto a quella che ci stiamo lasciando alle spalle, ripeto le piogge in primavera sono sempre ben accette e quindi aspettiamoci un po' di pioggia tra lunedì e martedì, poi vedremo se per il prossimo fine settimana saranno più consistenti. Per il momento non mi resta che augurarvi un buon weekend, arrivederci sulla nuova TV. Grazie.